Amen. Allora leggiamo insieme capitolo 8 Vangelo di Giovanni dal verso 25 Allora essi gli dissero chi sei tu? E Gesù disse loro proprio quello che vi dico Io a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udito da lui le dico al mondo Essi non capirono che parlava loro del padre quindi Gesù disse loro quando avrete innalzato il figlio dell'uomo Allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso ma dico queste cose come il padre mi ha insegnato E colui che mi ha mandato è con me il padre non mi ha lasciato solo perché faccio continuamente le cose che gli piacciono Mentre egli diceva queste cose molti credettero in lui Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui Se dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli E conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Non tutti coloro che hanno avuto la possibilità di ascoltare Gesù insegnare predicare ammaestrare Vedere ancora compiere miracoli e prodigi non tutti hanno creduto in lui Ma il Vangelo ci dice molti credettero in lui Non tutti riescono a confidare in Dio Non tutti riescono a credere in Dio Ma molti sì E io voglio ringraziare il Signore insieme a voi perché noi facciamo parte di quei molti Di quei molti che hanno creduto in lui Di quei molti ai quali egli ha detto se dimorate nella mia parola Siete veramente i miei discepoli A volte si ode dire io credo nel Signore Io credo in Dio Ma non si ha la più pallida idea della parola di Dio Non si ha alcuna relazione con la scrittura E noi stamattina più volte abbiamo ascoltato L'importanza e la necessità di meditare la parola di Dio giorno e notte Non puoi credere in Dio e non conoscere la sua parola Non puoi credere in Dio e non conoscere le sue promesse Non puoi credere in Dio e parlare con lui senza la sua parola Questa scrittura è per noi il patto che egli ha stabilito con noi Ed è attraverso questo patto che noi possiamo andare a lui e dire Signore tu hai detto così La tua parola dichiara questo Non possiamo gridare a lui Appellarci a lui Senza avere un riferimento scritturale Per quelli che mangiano la giustizia degli uomini Ogni stanza ad un giudice Ogni giudizio evocato Ha bisogno di una norma Di un articolo Di un codice Sia civile sia penale Su cui poggiarsi E dire al giudice La legge dice questo Io reclamo giustizia E se questo funziona per gli uomini Con Dio vale altrettanto Quando noi ci rivolgiamo a lui Dobbiamo andare per quello che dichiara la sua parola E molti ascoltavano Gesù E a un certo punto si pongono la domanda Chi sei? Chi sei? Palesati Manifestati In un'altra circostanza Sarà Gesù a chiedere ai suoi discepoli Ma la gente Chi dice che io sia? E dopo aver ascoltato Quello Che dicevano gli altri Gesù chiede Ai discepoli E voi E tu Cosa dici? Chi sono? Io Per te La dichiarazione di Pietro Possa essere La nostra dichiarazione Tu sei Il figlio Di Dio A chi ce ne andremo? Tu solo Hai parole Ai parole Di vita Eterna Le parole che Gesù ha dichiarato La parola che Gesù ci ha portato Attraverso la sua vita Perché egli è la parola di Dio Incarnatasi Fattasi uomo in mezzo a noi E' una parola Di vita Eterna E' una parola di speranza E' una parola di incoraggiamento E' una parola di fiducia E' una parola che ci ricorda Che con Dio Tutto è Tutto è Possibile Gesù non risponde alla domanda Quando gli chiedono Chi sei? Lui dice Proprio quello che vi dico Gesù non si ripete Dice Fate attenzione a quello che io Vi dico E qui fa un discorso Che ha a che fare Con la sua morte Quando avrete innalzato C'è un chiaro riferimento Alla sua crocifissione Quando avrete innalzato Il figlio dell'uomo Allora conoscerete Che io Sono E noi ricordiamo Quello che il Vangelo Ci racconta Che quando Gesù Fu elevato Su quella croce Il cielo Si oscurò Vi fu un grande terremoto Nel momento in cui Egli rendeva lo spirito Il Vangelo dice Che molte Tombe si scoperchiarono E alcuni morti Tornarono In vita Nel Tempio di Gerusalemme La cortina La tenda Che separava Il luogo santo Dal luogo santissimo Si squarciò Da capo A piedi Nel momento in cui Il figlio dell'uomo Sarà innalzato Voi conoscerete Che io Sono Noi oggi Noi oggi Possiamo Rivivere Quei momenti E afferrare Credere Ciò che Gesù Ha fatto Attraverso Il sacrificio Della sua vita Ha squarciato La cortina Che ci separava Da Dio Attraverso La sua morte Ha donato A noi Vita Eterna E noi abbiamo Creduto In Lui Poi se ci troviamo In una situazione Di pericolo Se improvvisamente Il nostro sentiero È coperto Dalle nuvole Se ci troviamo Ad attraversare Una tempesta Se davanti a noi Si para La valle Dell'ombra Della morte Io mi domando Riusciamo A continuare A credere In Lui? Siamo esseri umani Le ansie Le paure Lo spavento Fa calare Il sipario Davanti ai nostri occhi Ma Gesù ha detto Beati Coloro che non hanno visto Ma hanno creduto Si vengono situazioni In cui è meglio Chiudere gli occhi È meglio Chiudere il sipario Sarà anche per questo Che noi consigliamo Quando preghiamo Di chiudere gli occhi Di separarci Da tutti i condizionamenti Esterni E lasciare Che la fede Illumini Il nostro cuore E lasciare Che lo spirito Di Dio Accenda La lampada Del nostro cuore E possiamo Sentire Quella fiamma Che arde Nel profondo Delle nostre ossa E ci assicura E ci ricorda Che egli È Con noi Col sole E con la pioggia Nel lutto E nella gioia Se dimorate Nella mia parola Siete veramente Mie discepoli E dimorare E dimorare nella parola Del Signore Vuol dire Fare completo Affidamento A ciò che Egli Ha detto E ha fatto Però ripeto Siamo di carne Lo spavento Lo sgomento E' giusto Che ci sia E' giusto Che ci sia Anzi Se non ci fosse Dovremmo preoccuparci Della nostra sensibilità Della nostra emotività Di nostri sentimenti Dovremmo pensare Che nelle nostre vene Non scorre Del sangue rosso Ma della vodka Glaciale Quindi Totalmente Freddi Ad ogni Situazione Ma il dimorare Nella parola Del Signore Non solo Ci rende Veramente Sui discepoli Ma siamo Veramente Sui discepoli Perché avremo Quella grande Possibilità Di conoscere La verità E qui Per verità Potremmo Probabilmente Intendere Ciò che Dio Ha stabilito Per noi Noi conosciamo La volontà Di Dio Per la nostra vita Per mezzo Della sua parola Non da quello Che accade Attorno a noi La sua parola La sua parola Ci assicura Che egli Ci ha donato La vita Eterna La sua parola Ci assicura Che non sempre Vivremo Sotto al sole La sua parola Ci assicura Che nelle prove Nella tempesta Nella difficoltà Egli sarà Egli sarà Con noi La sua parola Ci assicura Che egli Non ci lascia E non ci abbandona La sua parola Ci dice Che anche se Lo spavento E la malattia Ci potessero E ci possono Cogliere Egli ha portato Nelle sue Lividure Tutte Tutte Le nostre Infermità E allora Se noi dimoriamo In questa parola Noi dobbiamo Passare Dal credere All'agire Perché c'è Una fede Che crede E poi c'è Una fede Che agisce Quando Davide È andato Nel campo Di battaglia Dove Sauli I suoi fratelli E l'intero Esercito Erano assaliti Dalla paura È andato Credendo Che Dio Era con lui È andato lì Anche arrabbiato Come si permette Questo filisteo Questo incirconciso Dire uno Che non appartiene Al popolo Di Dio Come si permette Di offendere L'iddio Di Israele Ed io credo Che noi Nelle nostre Difficoltà Ci dobbiamo Arrabbiare Ci dobbiamo Anche Incavolare Dire Non è possibile Non accetto Che il diavolo Che le difficoltà Che una malattia Che un problema Possa divorarmi E se siamo E se siamo Arrabbiati Ha compiuto Ha compiuto E in questo Non vi voglio Trasferire Delle convinzioni Mentali Voglio che Noi impariamo Ad agire Per fede Il quadro Il quadro è questo La battaglia È in corso Il nemico Sembra più grande Di noi Davanti A Davide Goliath Era tre volte A lui Ma noi Non misuriamo I problemi Per la loro Altezza Perché se Noi abbiamo Dei grandi Problemi Abbiamo Un Dio Che è Molto 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 Più grande Dei nostri Problemi E Davide Andò A quel Problema Con dei Sassolini E i nostri Sassolini Le nostre Preghiere Le nostre Intercessioni Le nostre Proclamazioni Nella freccia Di Dio Diventano Armi Potenti E abbattono I nostri Nemici Conoscerete La verità E la verità Vi farà Liberi La nostra fede Ci spinge In questa direzione E quando Conosciamo La verità La volontà Di Dio Saremo liberi Quando abbiamo Afferrato Ciò che Dio Vuole Da noi Saremo Liberi Dalle nostre Paure Dalle nostre Anzietà Saremo Liberi Dalle nostre Preoccupazioni E' importante Essere Liberi Per esercitare La fede Per tirar Le pietre Bisogna Essere Liberi E' il contrario Di libero Sapete qual è Schiavo Nel senso Di legato Provate A tenere Le mani I piedi Legati Non si può Né camminare Né tirare Alcuna pietra Conoscerete La verità E la verità Vi farà Liberi Liberi Di proclamare La vittoria Nel nome Del Signore Liberi Di Mettere Delle belle Scarpe Pesanti E far Sentire Tutto il Tacco Sulla bocca Sulla testa Del diavolo E ricordargli Che Dio E' Con noi Poi le Battaglie Su battaglie In battaglia Non si va Ballando E danzando Sì o no? Se vogliamo Combattere Con le nostre Forze Andremo a Far la guerra E allora Sentiremo La fatica Avvertiremo I dolori Le sofferenze Ma Nel preambolo Vi ricordavo Di Josaphat Che va In battaglia Ballando E danzando E quando Arriva sul Campo di battaglia Il Signore Aveva Già steso Tutti i suoi nemici E questo Non lo fa Soltanto Josaphat Questo Lo farà Josue Attorno Alle mura Di Gerico Qualcun altro Andrà Con le brocche Con una fiamma Dentro E andrà a fare E andrà a fare rumore Non avevano i musicisti Erano partiti Per far La guerra Gedeone E i suoi uomini Erano lì Andati armati Però a un certo punto Il Signore Dice Ponete Le spade Le spade Gli archi Giavellotti Ponete queste cose Prendetevi Una broc E metteteci dentro Una fiamma C'è andata a fare un po' di rumore Di notte Io credo che sia arrivato Un tempo In cui come credenti Facciamo rumore Ma non Il rumore Baccano Facciamo sentire La nostra voce Che si levi Dal nostro campo Un canto di giubbilo Un canto di vittoria Che possiamo Far rompere Le brocche Dei nostri cuori L'argilla Della nostra vita Dove il Signore Ci ha chiesto Di avere dentro Una fiamma Di fuoco E quella fiamma Il Signore L'ha messo Nei nostri cuori Ed è lo Spirito Santo Perché noi siamo stati Suggellati Dallo Spirito Santo E se questa mattina Siamo qui È perché il fuoco Di Dio Arde dentro di noi Perché Egli Ci ha assegnati Con il suo fuoco Però è necessario Andare in battaglia E rompere La nostra brocca L'odiamo Giubbiliamo Perché il Signore Ha già vinto Per noi Poi come vorrà manifestare La vittoria Lui lo sa Io al presente Posso avere un desiderio Posso avere Posso avere una visione Posso avere un pensiero Ma davanti Alla mia visione Mi affido Alla sua volontà Perché i suoi pensieri Sono molto più alti Dei miei I miei forse Riescono ad arrivare A questo soffitto Ma i suoi sono Molto Molto Al di sopra I miei occhi Riescono ad arrivare A guardare Alla parete Ma lo sguardo Del Signore Vede Oltre Le pareti Vede Oltre Questo paese Noi siamo Suoi discepoli Dimoriamo Nella sua parola Perché La sua verità Ci ha fatto Già liberi E noi Non permetteremo A niente E nessuno Di riportarci Nella schiavitù Della paura Dell'ansietà Del peccato Dell'allontanamento Da Dio Ma andiamo In battaglia E proclamiamo La vittoria Nel nome Di Gesù Amen Vi invito Adesso